E ragazzi, come va? Io sono FeriNiki E io sono Stef, e così giocheremo a Roblox E siamo tornati finalmente nella Skyblock Oggi siamo prontissimi a finire tutte le nostre isole Sì, ma siamo soli solletti Ancora, non ci possiamo incontrare Per quale motivo, non lo so Quando ci faranno costruire un ponte da 50 km per unirci tra di noi Non lo so, non lo so Spero che magari però avremmo abilità tipo di volare Poter andare da un'isola all'altra E poterci finalmente incontrare Esattamente, allora Ora, se vi ricordate un pochettino, nello scorso episodio Siamo arrivati a tre miniere, quattro alberelli E poi quest'isoletta dove si può prendere appunto l'iron E abbiamo la casettina per quando piove A questo punto Proprio per quando piove, giustissimo Avevamo comprato questo bel ponte Sperando che sarebbe comparsa l'isola Ma non è comparsa Però abbiamo formato un po' prima di iniziare questo video E quindi possiamo comprarla Se vedete a sinistra abbiamo un bel po' di materiali 3, 2, 1 Vai Wow E che cos'è questo? Cos'è quest'isola? C'è una scaletta È per la casa Oh mamma mia che bello Finalmente E c'è anche l'acqua 50 gold Ma l'hai vista? Sì ma chiede 50 gold Come 50 gold? Sì E da dove li tiriamo fuori 50 gold? Non ho la più pallida idea Qua non c'era questo È comparso un altro ponte Ok 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 Perfetto quindi Ok Ci volevano mettere in difficoltà Ok Questa sarà l'isola dove spona l'oro Ah immaginavo Esatto gold dropper Kate ti fregano Ti fanno prendere prima quella zona Vedi la casetta Fai oro Ma dove? Capito? Sì sì Ok Quindi prossimo obiettivo Farmare tantissimo oro Perché 50 saranno tanti E penso che non sarà semplice Ti dico solo una cosa Prendi tutto il ferro che vedi Sì sì Mi piace un sacco l'estensione sai Perché alla fine puoi arrivare tutto dietro E fatta carina Sì mi piace un sacco Possiamo fare una nuova canzoncina Credo che tu stessa sai il testo Vuoi iniziarla? Ferro 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 No non era così No Non era piotra piotra No Quella era la seconda canzoncina Ma era questa? No Era questa? Per fare la casetta Oh no Ci vuole l'oro Per fare l'oro Oh no Ci vuole il gold dropper Per fare il gold dropper Il Ci vuole tanto ferro Gold dropper si chiama No come l'hai chiamata? E in italiano come faceva a chiamarlo? Beh giusto sì Mi sembra giusto Oro che cade No no giusto E quindi gold dropper Certo Hai interrotto a metà la mia canzone Eh sì perché dai L'hai già fatta Conoscono tutti Non c'è bisogno di rifare Ma era la nuova Non c'è bisogno Non c'è bisogno No no esatto Ok nef Sai io non capisco bene Quando ho capito Quando è un buon momento per cantare Quando non lo è Perché canto sempre nel dubbio Capisci? Vai 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 Allora dieci di ferro che ho? Ok No È super illuminato No non hai capito È un dropper Ah ok ok Vabbè sì in effetti Questo è pur sempre un tycoon Non dimentichiamolo Aspetta Sono curiosissima Dove è apparso? Qua No Conta che poi costa Altri 4 di ferro Comprare il conveyor Quindi la stradina Scusate 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 Guarda No che figata Vabbè è troppo bello E posso comprare le fence Posso comprare delle scale Posso comprare il golden bridge Quindi il ponte dorato Bellissimo E un altro gold dropper Che costa 15 Bello 33 di oro Uh bello Secondo dropper comprato E adesso che ho messo i due dropper Sinceramente vado a farmi un po' di pietra e di legna Tanto ferro ne ho 30 Che dovrebbe bastare parecchio per un po' tutto Compro anche questo stompat Che tu ce l'hai io o no Ed è bellino Sì Che ci permette di volare Per incontrarci Secondo te quanto oro Facciamo Allora Considerando Altri 30 E ma adesso è per due E allora almeno 50 Vediamo Ok io dico 65 Ok Ho esagerato Anche secondo me è un po' esagerato 78 Eh vabbè No bello Bello Allora mi piace che questa produzione sia molto 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 veloce Sì Sì Mi piace Mi piace Mi piace Compro prima l'isole per la casa Sì Boom Sì 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 Ok Ti dico subito se c'è roba per volare C'è qualcosa Ti dico solo Compra castello Compra torretta No vabbè Che bello Ma che cosa è questa posta Sono felicissima Che bello Epico Boom Sì Sì È la casetta di app È lei Bellissima È fantastica È fantastica Posso dormire? No No Qua sotto Cosa c'è lì sotto? Dimmi 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 Allora dice Buy a secret liver Buy a walls slash floor E buy armor morph 44 di legna 28 di pietra 34 di ferro Direi che sono messo bene Allora Cosa compriamo? Non so dove iniziare Ci sono troppe cose Dimmi tutto Ok Dimmi Guardate quanto oro Quanto ne hai? 310 Wow Almeno la produzione dell'oro Guarda non ci lamenteremo più Che è lenta Davvero Davvero Ti chiede tanto oro Ma ne farmi Davvero Bene Perfetto Allora Io direi di provare a comprare le scale Perché mi hanno intrigato Ok Vai Vado anch'io a scale L'ho letto e ho detto Ma scale per Aspetta Non l'ho vista Enchanted Island Oh mamma mia Che ci chiede? 10 10 10 10 Ce li ho Ce li ho Dimmi che ce li hai Aspetta C'è qualcosa di strano Sì Sì Allora Dice Prova a cliccare Tutte Dice Praticamente di attivare le quattro lanterne In una volta sola Ok Giusto E che vuol dire? Fai una cosa strana quando ci riesci Te l'ho detto È molto strano È molto strano Sicuramente sono un po' perplessa Perché è davvero strano Cambia sempre il metodo Io te l'avevo detto Che questa mappa l'ha fatta proprio così Nel senso che per ogni materiale Fai delle cose sempre diverse Così non ti stanchi mai Il problema è che questo mi sembra un po' tosto Cioè rimanere qua a cliccare così Sembra preoccupante Puoi essere super veloce Mi sembra un po' strano Capito? Davvero davvero molto strano Sono a dieci e sono già stanchissimo Non so tu Il castello Mamma mia quanto chiede Mamma mia Manca la torretta Amica mia Venti di magia Venti Venti Cioè te lo devi proprio sciudare Basta Io vado in vacanza Vado? Tre Due Uno Oh che bello Bellissimo Bellissimo Davvero fantastico Insomma Dai è bello No no è molto bello Senza le torrette non rende bene Le torrette Esatto le devi comprare Quindi Continua a farmare Comprale Vado a cliccare Sì Che poi non abbiamo altro Eh credo proprio di no Ah no è comparse una cosa anche qua Ok Ok Quindi sicuramente per migliorare Per migliorare ancora di più E ancora non ci possiamo unire Boom Ok E che cosa sono? Non ho capito Ok Ok Sono sfere di magia Non lo so A che serve? Non capisco Non capisco Non capisco Ho sprecato 20 Di tutta Sono crashata Come sempre Io ho una fortuna incredibile Crascio nell'Everest Crascio qua E ovviamente come sono rientrata Non mi ha salvato niente di niente Perché giustamente Nel frattempo Non mi sono dimenticata di salvare Ho perso tutto Ho perso la mia bellissima casa Il mio bellissimo castello È una storia molto triste Molto triste Sta per arrivare alla nuova connessione Teoricamente non crescerai più Lo spero Lo spero Comunque mi accontenterò Di vedere le tue bellissime cose Cosa devi prendere adesso? Posso comprare le cose qua sotto È stata dura Ma ce l'ho fatta Allora Uno Questa è la cosa che mi incuriosisce di più Vai fuori Adesso la casa vola per favore Ecco la terra che si abbassa Vedi? No è bellissimo questo Ma voglia l'infinito? Ciao ragazzi Sto volando Vuoi fare il viaggio intorno al mondo anche tu Come app nella casa Vai in giro Anche se avrei una paura matta Proprio una roba incredibile Eh sì direi 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 Ragazzi Non smetti di volare Quando scendo Non smetti di volare Posso scendere adesso? Non smetti più di volare Aiuto Aiuto Buttati Se non è qualcosa di bellissimo Giuro che mi butto giù dall'isola Perché Sì No sono d'accordo Sono d'accordo Sono d'accordo È bella ragazzi come mappa Ma mamma mia Se è una sofferenza Quanto bisogna farmare Davvero lunghi Uh bella È in altissimo Ma non è che Ci arrivi con la casa Sì Ci arrivi con la casa È fantastico Proviamo vai Vai Corri su Corri su Corri su Ok Scusate Se non rimani di sotto Mi sembra giusto Vai 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 Vediamo Speramente da questa porta Ci arrivi Aspettiamo comodi nel divanetto Giustamente Sì Sai Cosa mi racconti bello Eh niente È una casa che vola nel cielo Meglio di così Cioè cosa pretendi Come vorresti stare No ma ti spiego a cosa serve Praticamente Non prendi più neanche l'aereo No 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 Tu hai la casa Ancora meglio Sì 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 Tu hai una casa ok Vivi tranquillo È nel tuo giardinetto È tutto Ok Quando arrivano dei vicini Che ti danno fastidio Clicchi il bussante Tende i sciolazzi E nessuno ti dà più fastidio Al massimo Ogni tanto i piccioni C'entrano la casa Però vabbè Magari fanno il nido dentro casa E ti disturbano Magari metti un gatto da una parte Un gatto dall'altra E siamo arrivati Dai Meglio uscire da Vai È proprio un ascensore alla fine Sì è proprio un ascensore Allora quindi Tool Che sarebbe Strumenti di solito E run away Tool stall Quindi qualcosa Per gli strumenti Non lo so Non capisco Quanto ci vuole 15 di magia Oh mamma mia La magia è la più pesante No è 12 di pietro Uffa Cosa ha mangiato di buono Eh ha detto cereali Cereali? Sì Lui mangia i cereali Non credo Mangi nei cereali I pappagalli Ma va bene Stai scherzando? C'è pure la pubblicità Con il pappagallo Nei cereali E Capitan Jeff Li mangia Che pubblicità Non lo so L'hai vista solo tu Non l'hai vista I pappagalli sono carini Quindi la pubblicità Che i pappagalli ci sarà Quasi arrivati Quindi smettiamola Di dire stupidaggini Questo è l'ascensore Delle stupidaggini Capisci? Assolutamente Certo perché ti annoi Il viaggio è un po' lungo Quindi Esatto Normale che dopo un po' Dejeni Allora Qualcosa di davvero fantastico Ok Ok Flight school Cosa sarebbe? No Ho capito Ho capito Ti insegnano a volare No Vabbè 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 Ok Perfetto È fantastico Bello No questo è epico Questo davvero ne ha alzo Tutto il farm Che abbiamo fatto Non si accende Come non si accende? Vedi? Stai per cadere? Ah no Ok Devo cliccare Perfetto Sto arrivando Ti atterro in testa Ok ci sto Tanto sono ferma Quindi fai quello che vuoi Houston Abbiamo un problema C'è qualcuno che mi sta girongelando intorno Stiamo precipitando Stiamo Stai sicuro un consolino Stiamo precipitando Eh non è successo No Stai ferma nella mia testa Immobile Fantastica Bellissima Allora Ok Ok Non capivo come si toglie E quindi ho finito Eh credo proprio di sì Sì vai vai Tornando nell'isola Vediamo un po' più Ah almeno questa è veloce Sì almeno questa è un po' più E infatti la nuova Speedy Mi sembra giusto che sia più veloce Sì Cosa ci manca? Allora la magia è finita Qua ci sarebbe un'altra torretta Ma sinceramente ragazzi faceva schifo Quindi non mi frega nulla Questo ci manca Ok sì un'altra armatura Ma niente di che Questo qua era un alberello Quindi nulla E questo serviva al game pass Quindi non si può comprare Credo che abbiamo ufficialmente finito questo take one Sì finito Sì 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 A meno che non vogliamo fare proprio quelli precisini Che vogliono finire tutto tutto Ma dai secondo me non ne vale mica la pena No tanto sappiamo già che cos'è Quindi dai lasciamo stare Lasciamo stare Solo perché ci vuole davvero tanto Puoi affarmare anche la magia E comunque non è niente di che Diciamo che le parti più importanti le abbiamo finite Davvero davvero bello Pieno di sorprese Pieno di cose strane Cose particolari È stato davvero interessante giocarlo Peccato che io non l'ho fatto Perché sono tracciata Però va benissimo Quando fanno questi take one così originali Diversi del solito Siamo sempre felici Perché ci piacciono queste cose un po' diverse L'abbiamo apprezzato davvero tantissimo Ci fa piacere che ci avete chiesto di fare appunto la seconda parte Perché appunto Riempendoci proprio di like Che è stato fantastico Quindi siamo felicissimi di averlo potuto continuare E niente abbiamo finito così Sono molto molto contenta Bene che se non riesci così Ci facciate sentici un bel like E se è la prima volta che vedete il nostro video Potete considerarli Da di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao ciao Grazie a tutti Grazie per la visione